Bene, bene. Andiamo meglio. Dottor, andiamo meglio. Andiamo meglio, sì. Madonna mia pelle. Madonna mia pelle, ti ringrazio. Lucariello. Lucariello. Lucariello, dottor Cahetta. Andiamo meglio. Eh? E che re? E non dici niente, guarda, guarda. E c'è, eh? E c'è, eh? C'è, 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 c'è. E c'è, 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 c'è. E c'è, 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 c'è. E non dici niente, non dici. E Lucarie, guarda là che c'è sta. Avere che c'è sta, c'è sta che la bella faceva che è una Carmela. Allo, ma hai te conosciuto? Eh. E Lucarie... Lucarie ha raccontato a donna Carmela. Un fattere di fagioli. E quale è questo fattere di fagioli? E io, come volete, volete far sentire? Allora... Overete con marino? E io, come gesto, ma ho facoltato sempre le fattere di fagioli. Io ho fatto tanto anno fa, eh? E io ricordi, qui, eh? Ma regolino, quando ero? Ma bene, ma venne il cuore mio, ma bella! Ma raccontateci al primo fattere di fagioli, vieni! E poi, come gesto... Io mi sento, dai, con un po' di febbre. Ecco, di febbre, eh? Un po' di febbre. Un certo, gli ho detto, io chiamavo il dottore. Gli ho detto... Allora... Gli ho detto, io sono i donari buttati. Io domani non devo niente più. E noi, noi, i progetti. Io ero dei mali dottori, e poi per... ...e la pubblicazione... ...e la pubblicazione... ...e la pubblicazione... ...e una pubblicazione... ...e la pubblicazione... ...e poi è peggio... ...e poi si... ...ma va bene... ...e c'è... ...me deve quasi mettere una cosa a capo, quel gesto. E tu... ...e tu fesi una visita... ...e tu... ...ha... ...a questi... ...questo... ...com'è la ricetta? Eh, ti dicette, questa è una cosa viscera... ...non deve... ...non deve... ...e una cosa viscera... ...non deve... ...non deve mangiare... ...se mangi... ...non mi mosca la febbre. Ah, eh... ...non si pagina... ...e l'uscire... ...e l'uscire... ...e l'uscire... ...quel giorni... ...quilgetto... ...e lo fatti di paggiore della pasta... ...i paggiore che devi fa bene, ...e tutto le pasta, frasura... ...per tutta la casa, ...per ok. E io mi ricetta... ...oggi... ...ma prima... ...proprio oggi... ...perì, io mi sento molto bene... ...però mi fatti... ...i paggiore della pasta... Ecco, come ti permetteva, dicendo, io ho fatto un brodo, dicendo, io ho fatto un brodo a meno, non mi so, eh. Cos'è? E allora, sento io, tutto questo addorio di pasta e fasole che si sente per la casa, ma io, ah, che l'ha fatto la signore di Mbetta, o eh, e dicendo, la signore di Mbetta che mi mandasse un biattito, non c'è, non c'è, facciamo tanta attenzione a loro, perché non l'ha fatto, deve stare giù, sapete, il dottore, quello che se ne accogge che è, mangiare, e figo che fai, c'è un uomo, c'è, eh, c'è, vabbè. D'accordo, in d'arrovo a me, c'è, tu quando è stanotte parlavo, io sono tremendo, eh, c'è, eh, che sono io? È tremendo, l'uomo, è tremendo. Sono tremendo, non mi metto una cosa in cava, eh, eh. Dopo la notte, con i sette aveva preso il sonno, eh, io, ma lo sai, è tintare così, eh, 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 che io sassi, quando si fanno i fagioli con la pasta, in casa mia si fanno che bastano per tre giorni. Eh, tre giorni? No, sì, eh, tre giorni, perché ci piacciono le scarpate, poi è anche freddo, a te, freddo, ah, su quello, per merenda, si fanno anche per merenda. Sì, eh, è tintare la vicina, ma se toglie, ho da lì. Levo cucciare il materiale, aveva a suppire, che bella, vede, vede. Vede, vede. È dutieso ai dacchi, 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 è dutieso ai dacchi. È dutieso ai dacchi. non devo neanche un po' di febbre. Fembre! Fembre! Oddio! Cos'è? Miscinario frisco, frisco. Come mi scinario? Frisco, frisco, frisco. Frisco, frisco, frisco! Ehi! Non è la tua scienziata, lui. Senti! Lo rischio, e mangiovi la notte di baxare la febbre. Che ciuccio! Beh, io me ne vado, eh.